E così Donald Trump sta facendo sul serio, sta facendo esattamente quello che ha detto che avrebbe fatto durante la campagna, sta costruendo quel muro, sta chiudendo le confine negli Stati Uniti ai profughi di guerra, sta imponendo un vieto sui musulmani che vengono da sette paesi, sta facendo le cose che lasciano l'Europa con la bocca aperta, ma danno molta soddisfazione alla sua base, ai suoi appoggiatori, come daranno soddisfazioni a Marine Le Pen o Salvini o Nigel Farage. Trump sta seguendo la linea del nazionismo, della chiusura e sta facendo le cose che se provocano proteste in America, come stiamo vedendo a tutti gli aeroporti americani per esempio, e anche proteste da parte della magistratura americana, abbiamo visto che le corte sono intervenuti per cercare di sfidare Trump su alcuni elementi di questa politica di immigrazione e perché noi americani non siamo abituati a chiudere le confine. La tradizione degli Stati Uniti è di avere le confine aperte ai profughi e ai rifugiati e ai migranti, perché gli Stati Uniti è fatta da profughi e ai migranti. Grazie. Grazie.